Ciao e bentornati sul canale! Oggi di nuovo Fall Guys Prima di tutto però cambiamo il personaggio Però guardiamo le cose nuove ovviamente Mi sembra carino quindi lo compro Anche se sprecherò un sacco di soldini Il gufo è carino ma non ha abbastanza soldi Quindi aspetterò A me basta già quello che ho Come scuolo non mi interessa sinceramente quell'altro Cioè non mi interessa molto Allora il sotto mettiamo una connellina Scusate ma devo cambiare subito il pantè Perché così è inguardabile Cioè proprio inguardabile scusate Come lo metto? Va bene così Sotto Mettiamo le scarpine E sopra Sopra sapete che non lo so O l'unicorno o l'alieno Unicorno o l'alieno Unicorno o l'alieno Unicorno o l'alieno Facciamo l'alieno dai Un'alieno rosa Va bene Andiamo Alla partita Come va la scuola? A me bene Siete contenti che resta per finire la scuola? Siete stanchi? Oppure siete ancora pieni di energie E di continuare la scuola? Io sinceramente sono un po' stanca In questi ultimi giorni di scuola Però Dai Non sono nemmeno così Stanca Diciamo Così così Sessanta su sessanta Oh Questa non la posso sbagliare ragazzi Pronti a vedere Sara vincere O forse no Perché A volte Perdo pure in questa Ci credete? Una volta Si è oscurato tutto Lo schermo E praticamente Non si vedeva niente Non riuscivamo ad andare Perché noi saltavamo a caso Perché non vedevamo E però Non azzeccavamo E quindi Bene La 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 Vorrei approfittare di sto momento Per salutare Alessandra Che ha un canale youtube Andatela a vedere E mettete un like sotto il video Sia sotto il mio Che sotto il suo video Parla anche lei di giocattoli Quindi Per chi A chi piacciono i giocattoli Potrebbe piacergli Questo canale Fa specialmente Cose da edicola Tipo Le mattitone Gigantesche Oppure Gli squishy Insomma Roba così Ciao Ale Ed è anche Una mia compagna Di classe No ragazzi Ragazzi Sono arrivata Decima Sono arrivata Decima Decima Record No Non record Perché il mio record È sesta Una volta Sono arrivata Sesta Ma che fa Sto pollo Pollo Perché è un cello Vestito da pollo Che fa Ah Sto furbone Vuole fermare Gli altri Ma si Butte Ma cade lui Non sono sicura Ma cade lui Arrivano 36 Entrate Ah No Ma queste Avete assistito Alla scena Di una persona Cattiva Cioè Si è messa lì E ha aspettato L'ultima persona Per fregargli Il posto Questa si chiama Cattiveria Proprio cattivo È stata Ma poi perché Cioè Poverino Diceva Ma perché Hai aspettato lì Tutto il tempo Praticamente Hai aspettato me Tutto il tempo O Il penultimo Che stava Per arrivare Per arrivare Ultimo No Mi dispiace Veramente Il circuito Voi Voi Quali Quale Gara Riuscite Qual è Quella La gara La vostra Gara Ideale Ecco Beh La mia È quella Che abbiamo Fatto Prima Questa Non sono Molto Brava Però Ce n'è Una In cui Sono Bravissima Insieme A quella Del Circo Oh Non ci so Ma Che storia È questa Andiamo 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 Che poi Tutti C'hanno Stamania Di aggrapparsi Ma non ho capito Perché C'è Inutile È più Facile Grazie Cominciamo Benissimo Oh ragazzi Sto andando Bene Mi sono Bloccata Mi sono Bloccata E la Sto Facendo Che bello Che bello Ce la posso Fare Se non Mi Intoppo Troppo Qua Eh No Come Prima Dai Ti prego No Ti prego Dai No Ragazzi 4 su 23 No No Dai Ragazzi Non ci credo Non ci credo Ero Ero quasi Arrivata Ok Ragazzi Io Vi saluto E ci vediamo Al prossimo Video Ciao Ah E ricordatevi Di iscrivervi al canale Ciao 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 Ciao